Partecipiamo a questo progetto insieme a due enti francesi che sono il Corde Sova, il credente capofila e Smaps, insieme anche al GAL e al Collieretti Torino. Questo progetto dell'Auglo.1 vuole promuovere l'innovazione nel sistema imprenditoriale locale e lo sforzo che la Camera di Commercio fa quotidianamente a supporto delle imprese locali.